Allora, è finito da poco il primo allenamento di Claudio Santini qui al centro Michelin. Finalmente è arrivato Claudio Santini, aspettato, atteso. Le tue prime impressioni dopo i primi momenti di lavoro con la tua nuova squadra? Beh, innanzitutto sono contentissimo di essere finalmente arrivato. Le prime impressioni, a partire dalla società, sono passato dallo stadio e poi a finire dai miei compagni e dallo staff sono state ottime. Sono veramente felice e ho trovato un gruppo di ragazzi sano e spero che si possano fare delle grandi cose e lo sono convinto. Ecco, tu come stai adesso? Beh, sto bene, mi devo rimettere un attimo in forma, però abbiamo tempo e lo farò insieme ai miei compagni e penso che lo staff sia all'altezza e quindi non ci saranno problemi. Allora, i tifosi grigi hanno imparato a conoscerti con diverse maglie, però hanno di te l'immagine di un giocatore che lotta, che non molla mai, che rilasce tutti i palloni, quindi da questo punto di vista, questo spirito immagino che tu lo voglia portare anche nella tua nuova esperienza con l'Alessandria Calcio. Beh, sicuramente ai tifosi non gli farò mancare quella grinta, quella voglia di portare a casa il risultato, di portare a casa un contrasto, di buttare a valla dentro, quello non mancherà assolutamente e spero che non mancherà da parte di nessuno della squadra. Allora, riparte la campagna Bonamenti per la stagione 18-19, un appello di Claudio Santini ai tifosi grigi. E niente, vi aspettiamo numerosi allo Stadio Moccagatta e Forza Grigi!